Ogni anno migliaia di persone subiscono l'amputazione di una gamba o di un braccio a causa di incidenti sul lavoro, incidenti stradali o malattie. Quello che mi è successo a 18 anni è stato un incidente stradale che mi ha portato via mezza gamba. Un giorno io ho avuto un incidente, le gambe sono rimaste in Germania. Il 2 di gennaio del 2013 soccorrendo un signore che era cappottato con la macchina, un utente della strada che era cappottato con la macchina per prestargli soccorso. Sono anch'io purtroppo in corso in un altro incidente in cui una macchina mi ha falciato e quindi mi hanno amputato a Siracusa sotto il ginocchio sinistro. A me è successo un incidente motociclistico nel 2000. Nel 2008, il 20 novembre, ho avuto una malattia appunto su un meningococco per cui meningite, crisi settica e tutto quanto che ha portato all'amputazione delle braccia e delle gambe. Una notte, dopo aver fatto una giornata di nuoto e di sport, dolori atroci, tremendi, 118, ambulanza, ospedale. Tre giorni di rianimazione, quattro giorni di rianimazione non mi ricordo più e poi si è deciso di amputare. Per qualsiasi tipologia di amputazione, i pazienti hanno bisogno di essere presi in carico da un team multidisciplinare di professionisti medici in grado di costruire un progetto di recupero personalizzato. Se ne è parlato al centro di riabilitazione al cammino Casalino di Loiano, vicino Bologna, con campioni dello sport e protagonisti di storie uniche a lieto fine, che grazie alla riabilitazione post-intervento e alla consegna rapida di una protesi definitiva, hanno potuto ridurre drasticamente i tempi di recupero e rimettersi letteralmente in piedi in tempi brevi. Di sicuro conta anche l'ambiente in cui sei inserito nel momento della riabilitazione, quindi i tecnici che ti seguono per le protesi, imparare ad utilizzarle dipende anche da loro. In più, nel post-riabilitazione, avere anche dei fisioterapisti, delle figure che ti seguono, è fondamentale perché capita spesso di approcciarsi a questo mondo nuovo senza conoscerlo. Ci vuole un indirizzo alle persone verso centri specializzati dove ti fanno la protesi, ti insegnano a usarla, fisioterapia, tutto un... si chiude il cerchio, no? Diciamo. Io vivo in Sicilia che è una terra bellissima, ma che è una terra che ancora non è pronta, non è preparata a queste cose, diciamo, un po' siamo indietro per quanto riguarda queste situazioni. Arrivando qui ho trovato tutta la tecnologia del caso, tutto ciò che mi interessava per poter tornare a ciò che mi serviva, quindi mi sono affidato a loro perché mi sono subito sentito fiducioso, sentito nelle mani giuste e quindi mi sono affidato a loro e devo dire di non aver sbagliato. Se penso, ogni tanto, per così, immagino la mia vita senza questa malattia, se non fosse successo niente, tutto quanto, e poi vedo le mie amiche, le mie amiche che seguo da quando sono piccola, cioè delle mie amiche da sempre, e dico no, cioè no, io non voglio essere così depressa, non voglio non fare questa cosa, voglio continuare a girare il mondo, voglio continuare a conoscere gente, rendermi utile, perché anche poi aiutare le altre persone, cioè forse è un po' una forma di egoismo, però ti senti tanto bene a pensare di aver aiutato qualcuno. Per cui anche quando viene una persona da te o ti scrive un messaggio su Facebook, volevo ringraziarti perché grazie a te sono riuscita a fare questa cosa qua, o mi è passata la depressione, o ho trovato un lavoro, tutte queste cose qua, cioè ti dà tanta forza anche, ti viene più voglia di continuare a fare tutte queste cose. E poi, dopo tre mesi d'ospedale, mi dico adesso cosa faccio? Devo andare a trovare un centro di rehabilitazione. Fortunatamente, casualmente, ho incontrato un ragazzo, che era stato uno dei primi a venire qui all'Occirici di Casarino, che è venuto a trovarmi in ospedale con protesi a vista, da un anno che portava la protesi, molto allegro, molto soddisfatta, dice guarda, adesso sono andato a CRC di Casarino, vai, perché ti troverai bene. Bene, ok, allora esco dall'ospedale, gli amici mi accompagnano qui, poi, come ho messo la protesi, subito mi sono messo a camminare. Io davvero ritengo che quello che tentano di fare qui in CRC, anzi, lo stanno già facendo con successo, cioè di portare i pazienti direttamente dall'ospedale, fondamentalmente, alla stanza, al laboratorio ortopedico, e anche di metterli a confronto con altri che hanno già affrontato questa esperienza, è, a mio avviso, una tattica assolutamente vincente. Oggi la tecnologia offre delle soluzioni che sono davvero soddisfacenti, che rappresentano per gli amputati un passo in avanti enorme, rispetto all'alternativa della sedia a rotelle, per capirci. Quindi, aiutati che il gente aiuta, è un po' la conclusione del tutto.